Riprendiamo a parlare di funzioni provando ad applicarle su un esercizio che non sia banalissimo come quello che abbiamo visto le volte scorse, chiaramente che ci è servito per capire i meccanismi di base. Allora io penserei di prendere l'esercizio, ricordate sulla briscola che avevamo fatto insieme, un esercizio che risale a parecchio tempo fa, quasi un mese fa, all'epoca non conoscevamo i cicli, non conoscevamo molte cose, era un esercizio semplicemente con degli if, ma su cui avevamo fatto alcuni ragionamenti. Allora se adesso che conosciamo più cose dovessimo rifare questo esercizio, come lo affronteremmo? o meglio possiamo non rifarlo da capo ma provare a prendere ciò che c'era e implementarlo in modo più modulare, in modo più ordinato, in modo più completo. Quindi io mi prenderei il file che avevamo nella settimana 4, me lo copio e me ne faccio una copia nella settimana 7, in cui se ci ricordiamo e sicuramente non ci ricordiamo perché in mezzo abbiamo fatto tante cose ma siamo stati bravi a scrivere dei commenti in cui abbiamo definito vari blocchi 1, 2, 3, 4 del programma. E allora possiamo provare a pensare, se avessimo già conosciuto le funzioni all'epoca, questi vari blocchi, queste varie funzionalità del programma probabilmente sarebbero state, sarebbero potute essere diverse funzioni. Implementiamo quelle funzionalità ma ciascuna dentro una funzione. Ad esempio noi avevamo un blocco 1 in cui veniva scelta un valore casuale che rappresentava il seme di briscola per questa mano. Avevamo un blocco 2 in cui si acquisisce la giocata del giocatore 1. Un blocco 3 che è praticamente identico al blocco 2 in cui si andava a leggere la giocata del giocatore 2. Già qui vedo che ci sono istruzioni uguali, se effettivamente le mettessi dentro una funzione le potrei usare una volta sola. E poi c'è la parte finale che determina chi ha vinto con una serie di controlli. Allora il programma principale, ciò che l'utente vede, alla fine l'utente vede che è stata scelta una certa mano di briscola, sono stati inseriti certe giocate e alla fine so chi ha vinto. Poi c'erano tutti i passaggi algoritmici in mezzo. Allora proviamo a immaginarci di poter incapsulare dentro delle funzioni le cose che facevamo. Allora il passaggio più semplice potrebbe essere questo qua della lettura dei dati, perché proprio avevamo delle istruzioni uguali. Quindi queste istruzioni sono un ottimo candidato a essere spostato dentro una funzione. Quindi io potrei definire una funzione che mi permette di leggere una giocata. E avendo a questo punto anche imparato i cicli e le altre cose, possiamo anche controllare che i dati inseriti siano corretti. All'epoca non eravamo capace di farlo. Potevamo semplicemente, giocata non vai, da cosa succedeva? Exit, il programma si interrompeva di brutto, ma perché non eravamo capaci ancora a richiedere. Quindi potremmo definire una funzione e dove la metto? La metto all'inizio, leggi giocata ad esempio, in cui vado a inserire le istruzioni per leggere un nuovo giocatore all'utente. Allora, cosa riceve in input e cosa genera in output questa funzione? Allora, in input vedete in che cosa differiscono questi due blocchi di istruzioni? differiscono essenzialmente per questa frase qua, primo giocatore, secondo giocatore. Per il resto fanno le stesse cose. Poi ovviamente la prima calcola e determina il valore di una variabile che si chiama giocata 1 e l'altra una variabile che si chiama giocata 2, ma questo sarà poi il risultato della funzione stessa, il valore di uscita. Quindi le due funzioni fanno la stessa cosa con la variante del messaggio di invito che stampano. Allora possiamo pensare che all'inizio ci sia il nome giocatore come parametro della funzione e il valore di ritorno sarà la stringa di due caratteri che rappresenta la giocata. Quindi alla fine ci sarà un return della giocatore. Questo farà questa funzione. Se vogliamo fare una prima prova per capire cosa succede se mettiamo che lui gioca, che ne so, il 3 di fiori, giusto per non avere, faccio un return giocata, la giocata è una variabile non definita, io provo a metterci una costante e proviamo a vedere se funziona. Se io ho questa funzione che legge una giocata io potrei pensare, ok, in questo caso non la fa davvero la lettura, ma per rapidità per il momento l'abbiamo sostituito con una costante, poi ovviamente dovremmo metterci le input, i controlli eccetera. Ma se io ho questa funzione e supponendo che questa funzione sia completa, posso buttare via tutto ciò che ho qua, lo cancello e lo sostituisco con una sola istruzione che è giocata 1 uguale leggi giocata del primo giocatore. E tutta la parte rimanente, anche la cancello, la butto via e avrò giocata 2, leggi giocata del secondo giocatore. Grazie, sono scappate le parentesi in più. Quindi ho, già diciamo rifattorizzato, ho spostato delle istruzioni che prima erano nel codice principale, lo spostate dentro una funzione. E il programma, forse, se non ho fatto cretinate, dovrebbe ancora funzionare, ovviamente con dei risultati sbagliati perché dice che entrambi hanno giocato il 3 di fiori che sappiamo che non è possibile. Ok? Però, adesso abbiamo, diciamo così, snellito, semplificato molto e reso anche molto più leggibile il programma principale. Perché abbiamo delegato una funzione, fatemelo chiamare il lavoro sporco, di andare a fare l'input, il controllo, eccetera, eccetera. E la stessa cosa si può fare con tutta questa logica qui, complicata, che determina chi è il vincitore. Io tutta questa roba qua la posso spostare dentro una funzione. E cosa fa questa funzione? Ce l'abbiamo scritto qua, riceve il valore della briscola, deve sapere qual è il valore della briscola, le due giocate e produce il vincitore. Questo che abbiamo scritto come commento diventa già praticamente la specifica della nostra funzione. Quindi tutto questo blocco qua lo posso togliere da qui e definire un'altra funzione che possiamo chiamare determina il vincitore, che riceve l'ingresso che cosa? Il valore della briscola, il valore della giocata 1 e il valore della giocata 2. E qua nell'implementazione di questa funzione posso fare semplicemente incolla di ciò che avevo estratto da sotto e ovviamente devo rientrarlo tutto di una posizione perché deve stare sotto la funzione. Così. e alla fine dovrò aggiungere un return vincitore. Cioè cosa sto facendo? Sto dicendo la parte di programma che determina il vincitore la incapsula in una funzione, questa funzione riceve tutte le informazioni di cui ha bisogno e poi fa i suoi conti, zona azzura che non andiamo a riguardare perché l'avevamo fatto l'altra volta, ci era costata un bel po' di ragionamento e alla fine restituisce al chiamante il valore del vincitore. Quindi se tutto va a finire dentro questa funzione, al programma principale non basta fare che il vincitore chiamare questa funzione passandogli chiaramente il valore della briscola, della giocata del giocatore 1 e della giocata 2. Cioè il mio programma principale si sta riducendo a tre righe. Perché poi ciascuna di queste righe sta andando a chiamare una funzione che farà il lavoro sporco, il lavoro di dettaglio. Poi alla fine non è che ho buttato via delle istruzioni, le istruzioni le faccio lo stesso, ma sono spostate. Questo mi aiuterebbe anche nel momento in cui dovessi dire facciamo evolvere questo programma e facciamo in modo che permette di giocare più mani in successione, tenga conto dei punteggi. Il che vuol dire che bisogna ripetere questo nucleo qua, le istruzioni. Non la generazione della briscola che vale per tutta la partita, ma le giocate. Allora vuol dire che per me a questo punto è facile mettere un ciclo while intorno a queste tre istruzioni che ho evidenziato. È anche chiaro poi che cosa succede. Se dovessi mettere un ciclo while intorno al programma che avevo prima, diventa effettivamente facile poi perdersi, perché ho poi tanti livelli rientrati e non capisco più esattamente dove sono. Quindi poter... Noi i ragionamenti li facciamo un passaggio per volta. Acquisisco una giocata, determino un vincitore, ripeto una mano una seconda volta. Il meccanismo delle funzioni ci permette di far sì che anche nel codice si veda questa separazione tra i vari livelli di ragionamento, tra le varie sotto operazioni che vengono compiute dal programma. Ma rimaniamo su questo, non l'abbiamo ancora finito perché per ora c'è ancora un po' di dettagli con cui volevo giocare con voi. Allora, giocate a 3F non va bene, dobbiamo mettere la lettura vera. Io adesso ho cancellato questo codice, ma farò lo stesso perché lo vado a riprendere da quello che va una settimana a 2, dove c'era scritto una cosa di questo genere e la vado a mettere qui. Chiaramente, poiché questo è il corpo della funzione, va rientrato. Non sarà il primo giocatore, ma sarà... Metto una stringa formattata. Il messaggio che stampo è parametrizzato con il nome del giocatore e quindi adesso scriverò primo giocatore, secondo giocatore, poi magari quando vogliamo farlo più figo chiediamo il nome del giocatore e scriviamo Antonio Giuseppe Francesco. E poi l'altra cosa, ovviamente dobbiamo poi modificare le variabili perché questa funzione leggi giocata non sa se sta leggendo la giocata di 1 o di 2. È una generica variabile giocata, quindi andiamo un po' a controllarlo qua. Giocata 1 non esiste come variabile e restituisce questo valore di questa giocata generico che poi verrà salvato dentro giocata 1 oppure dentro giocata 2 nelle varie diverse invocazioni della funzione. Proviamo a vedere se questo funziona. Rilanciamo questo programma. Per questa mano è Fiori, quindi il primo giocatore magari mette un 2 di picche, il secondo giocatore mette un 6 di picche e quindi dice che ha vinto il giocatore 2. Stiamo facendo le stesse cose di prima, abbiamo solo spostato il codice. In realtà abbiamo cancellato del codice perché la lettura del giocatore 1 e del giocatore 2 prima era replicata due volte e adesso l'abbiamo scritta una volta sola dentro la funzione. Già che ci siamo a questo punto possiamo migliorare questa funzione. Se il primo giocatore mette una cosa che non vale, adesso la funzione che cosa fa? Mi stampa il messaggio d'errore e poi fa exit e quindi termina il programma. Beh, avendo imparato i cicli possiamo fare in modo che la funzione possa richiedere il valore. Allora io sono tranquillo perché adesso vado a giocare quella funzione per renderla più furba senza toccare il resto del programma, senza rischiare di sballare la parte complicata del programma che era quella di determinazione del vincitore, perché sono dentro una funzione e quella funzione lì non può toccare il resto, non può avere influenza conseguenze sul resto del programma. E quindi vado qui e dico dove siamo? Nella funzione legge giocata cambio un pochino la logica di controllo. Questa è la condizione giusta. E allora mi chiedo, questa condizione è verificata o no? Se non è verificata richiedo la giocata, quindi questo anziché essere un if che mi fa morire può diventare un while che mi fa dire che la giocata non è valida e poi richiedere una nuova. Ovviamente devo poi metterla in maiuscolo. Quindi cosa ho fatto? Leggo i dati una volta, controllo se sono corretti, se sono corretti, quindi questo not è falso, il while non viene eseguito e restituisce la giocata. Se invece non sono corretti, allora entro dentro questo while, stamperò un messaggio d'errore e richiederò nuovamente lo stesso dato. E quindi se eseguo il programma, se il primo giocatore mi mette y, y, gli dirò che questa giocata non è valida e quindi per favore il primo giocatore inserisci una valida. Allora visto che abbrisco le picche, mettiamo altre picche. secondo giocatore, mette un asso di fiori e perde. Quindi ci spaventa meno avere questo ciclo while in più all'interno con dei controlli, perché tanto stiamo ragionando su queste sei righe, sette righe di programma, poi sono inserite in un programma molto più ampio, ma quando ragioniamo sulla funzione ci dimentichiamo del resto, non dobbiamo tenerlo presente. Quindi è più facile, diciamo così, riuscire a ragionare e anche migliorare le cose. Ok, quindi noi abbiamo definito queste due funzioni. Adesso abbiamo imparato anche a commentare queste funzioni, documentarle, quindi aggiungiamo documentazione, la prima funzione è acquisisce la giocata, una giocata di un giocatore che deve immettere una carta valida. Se la carta non è valida viene richiesta ripetutamente. il primo parametro che questa funzione riceve è il nome descrittivo del giocatore e il valore di ritorno è stringa di due caratteri che rappresenta la giocata. Oh, se giocassimo a quattro giocatori questa funzione continua a funzionare. Giocare a quattro giocatori è più complicato, giochi due contro due, ma la regola, la regola chiaramente di capire chi ha vinto continua a valere concettualmente, ma ovviamente la funzione dovrà lavorare con quattro giocate e con due, quindi questa funzione si complica, quest'altra no, semplicemente la chiamo quattro volte. Quindi in questo senso sto costruendo delle funzioni che siano anche riutilizzabili in futuro, in future versioni barra evoluzioni dello stesso programma. E anche qua mettiamoci un po' di documentazione, che in pratica avevamo già qua sotto in questi commenti, quindi determina chi sia il vincitore di una determinata mano, mano di gioco. Briscola è una stringa di un carattere che rappresenta il seme di briscola nella partita. Questo non cambia le varie mani o è uguale per tutta la partita. Giocata uno è la stringa di due caratteri, che rappresenta la giocata del primo giocatore, la carta giocata dal primo giocatore, e l'altro sempre la stessa cosa ma la carta giocata dal secondo giocatore. Restituisce, c'è scritto qua, il vincitore della mano, come intero uno o due, come valore intero. Quindi questo commento qua non ci serve più. A essere preciso, se questo c'è scritto determina chi sia il vincitore, questa print sarebbe bene togliere dalla funzione, la funzione deve dirmi ok ha vinto uno o vinto l'altro, non è la funzione che stampa i messaggi a video, quindi questa print se mi permettete la tolgo dalla funzione e la metto nel programma principale prima di chiamare la funzione. C'è il programma che poi parlano con l'utente. Quindi questa funzione diventa anche di nuovo più riutilizzabile proprio perché non sporca lo schermo. Qui non ho fatto nulla, ho solamente aggiunto dei commenti, quindi non cambia niente. Il giocatore 2 in questo caso ha preso con un 2 di briscola che era picche un bel 3 portandosi a casa dei punti. Quindi noi abbiamo un programma che io collasso qui, cliccando su queste iconcine più o meno, ho un programma che si è in qualche modo ridotto di molto perché molta della funzione di data è stata spostata dentro le funzioni che possiamo realizzare separatamente e ragionare separatamente. Quindi il programma principale sono queste 4 o 5 istruzioni. Rimane ancora la generazione della briscola che anche questa magari potremmo mettere un run d'inter, non è nulla di esagerato, sono due istruzioni, però se vogliamo per ordine potremmo anche mettere in un'altra funzione. Scegli seme briscola. Questa funzione non riceve nulla come parametro perché semplicemente calcola un valore e me lo restituisce e quindi questa cosa qui. E quindi sotto potrò, anziché mettere in randiente, la chiamata, la funzione. scegli seme briscola. Scegli seme briscola. Quindi ho tutto abbastanza riordinato e continua a funzionare come prima. Adesso queste funzioni, ragioniamo un attimo sulle variabili dove sono definite, le funzioni dove sono definite, eccetera. Noi abbiamo definito tutte le funzioni prima del programma principale che invece è scritto dopo. Queste sono le istruzioni del programma principale. Deve venire dopo il programma principale perché se provassi a mettere una funzione dopo il programma, l'abbiamo visto la volta scorsa, ma rivediamolo meglio. Se io definissi la funzione, ad esempio, scegli se ho spostato questa perché era corta, al fondo del programma, il programma quando arriva qua non sa che cosa fare. Questo da un certo punto di vista è un po' scomodo perché vuol dire che la parte importante di un programma va a finire in fondo e davanti ci sono tutte le parti accessorie. E adesso oggi impariamo invece come fare a ribaltare la situazione. Quindi la regola generale è io posso chiamare una funzione da qualunque parte del mio codice purché tale funzione sia già stata definita. Definita vuol dire che l'esecuzione del codice Python è già passato almeno una volta dall'istruzione DEF. Quindi quando, poiché l'esecuzione avviene in ordine di riga, io quando arrivo alla riga 85 non ho ancora eseguito la DEF che c'è alla riga 101. E quindi alla riga 85 non posso chiamare quella funzione. E questo è il primo punto. Quindi torniamo, rimettiamolo dove era, poverina. Questa è una funzione che ovviamente non ha bisogno di input e mi restituisce un valore in output che è una stringa. Però c'è una stranezza, guardate questa riga 80. Nella funzione stiamo usando una variabile che si chiama semi. Vabbè, che è una stringa. Che uno non è definita dentro la funzione, non è una variabile locale della funzione. Non è un parametro della funzione. Non c'è tra parentesi semi nella funzione. Come fa a usare questa variabile? Tra l'altro questa variabile è definita alla riga 85. Io lo sto usando alla riga 80. Cos'è che non sto capendo? C'è un meccanismo strano che a volte appunto non è del tutto chiaro. Io lo sto facendo su questa funzione perché è di due righe. Ma se guardate leggi giocata anche c'è valori e c'è semi. Se guardate determina vincitore anche. No, in questo caso non è. No, c'è valori. Quindi valeva anche per le altre funzioni. Io mi focalizzo su questa perché è più piccola, no? Allora, perché questa funzione può vedere la variabile? Oh, il programma funziona, quindi lo vede anche il valore giusto. Perché lo può vedere? Di nuovo per l'ordine con cui vengono eseguite le istruzioni. Le istruzioni del programma Python sono così. Import, def e il def prende nota che c'è una funzione ma non esegue il contenuto. poi def, poi def, poi semi uguale, valore uguale. Quindi eseguo queste tre def, poi eseguo l'85, l'86, l'87. Scusate, l'89. Quando eseguo la riga 89 sto chiamando la funzione e quindi effettivamente eseguirò la riga 79, la riga 80, la riga 81. Quindi le istruzioni che fanno parte di una funzione vengono eseguite non quando Python leggi la definizione della funzione, ma quando la funzione effettivamente verrà chiamata. E quindi la funzione vedrà tutte le variabili che sono state definite fino a quel momento. Quindi questo Ricordiamocelo sempre. Questo vuol anche dire che se io cambio l'ordine con cui definisco le funzioni, posso definire prima una, poi l'altra, poi l'altra, non importa. L'importante è che definiti tutte le funzioni prima di cominciare il programma vero e proprio. Se le definite tutte prima, poi il programma ne può chiamare qualunque, in qualunque ordine, perché tanto sono già definite. Ok? E si possono anche chiamare la vicenda, non c'è in questo esercizio, ma lo vediamo poi con un'estensione. La seconda cosa che emerge da questa istruzione qua della riga 80 è che ieri, no ieri, lunedì vi ho mentito. Lunedì vi ho detto, ah che belle le funzioni, così le variabili che definisco dentro una funzione, le variabili locali, non sono visibili dal programma principale, non faccio casino. E le variabili del programma principale non sono accessibili dall'interno della funzione. Abbiamo appena scoperto che così non è. Perché la funzione, in questo caso, sta leggendo una variabile semi che è una variabile che è stata definita al di fuori della funzione stessa. E tra l'altro è stata definita dopo, ma sul dopo abbiamo capito perché non è un problema. Allora, questo fa parte del funzionamento delle funzioni, fa parte del funzionamento di Python, può darci fastidio oppure no. Allora, nel caso di semi non mi dà più di tanto fastidio, perché alla fine è una bella costante che è giusto che tutto il programma conosca. Un pochino di più mi dà fastidio che la stessa cosa succeda anche con le variabili briscola. Cioè questa variabile briscola non è che sia diversa da semi, l'ho definita nel programma principale. Questo significa che dentro le funzioni questa variabile si vede. E tra l'altro, dentro questa funzione, ho scelto il nome di una variabile pensando, beh, io sono una variabile locale, che mi frega degli altri. Scelgo il nome che voglio. Ho scelto il nome che è uguale a un nome di una variabile del programma principale. Infatti qui, se andate a vedere, mi insegna un warning che mi dice Shadows name briscola from outer scope. Che vuol dire? Vuol dire che questa definizione di una variabile locale, perché è una variabile locale, l'ho creata dentro la funzione, che si chiama briscola, questa definizione mette in ombra, Shadows, nasconde il nome di una variabile che è stata definita nell'ambito più esterno, cioè il programma principale. Questo vuol dire che la funzione, questo ve lo spiego quando facciamo poi il list, non lo dopo. Se io non faccio attenzione, rischierei, immaginiamo che io qua scrivo a briscola, anziché briscola. E però ritorno briscola con la A. Ma questo chiaramente è un errore, ho sbagliato io a scrivere. Ma non mi segnala un errore. Perché in realtà questa variabile briscola esiste. Solo che non è questa stessa che ho definito locale, ma va a pescare quell'altra là, che tra l'altro non è ancora definita, quindi mi darà errore poi dopo in fase di esecuzione. Però il fatto di avere una funzione che, tra virgolette, vede i valori delle variabili che sono nel programma principale, mi induce dei possibili rischi, per cui se io sbaglio a scrivere il nome di una variabile, anziché scrivermi, attenzione che non esiste, mi usa una variabile che, poverina, non ha colpe e non c'entra niente. Allora, dove voglio arrivare? Alla fine abbiamo scoperto che le funzioni possono vedere le variabili che sono definite al di fuori delle funzioni stesse. Non possono, giusto per tranquillizzarci, vedere le variabili che sono definite all'interno di altre funzioni, questo no. Infatti parla sempre di outer scope, l'ambito più esterno. Su semi non si arrabbia, perché dici, vabbè, io vado a vedere, vado ad usare quella variabile. Su briscola me lo segnala dicendo, attenzione che tu non solo stai usando una variabile che è definita fuori, ma stai cercando di ridefinirla. Quindi fai attenzione che non stai modificando quella variabile là, che tu lo voglia o no, ma ne stai creando un'altra locale. Quindi questo ovviamente confonde un po' le idee. Ma allora noi abbiamo delle variabili, che sono le costanti, che ci va bene, in questo caso, che siano definite dentro le funzioni, o accessibili, scusate, non definite, accessibili dentro le funzioni. Perché? Perché se non fossero accessibili dentro le funzioni dovrei passarle come parametri aggiuntivi a tutte le volte che chiamo le funzioni. Ma quelle sono costanti e nessuno le deve toccare. Le altre variabili sono, briscola, giocata 1, giocata 2, sono le variabili di lavoro del programma principale. Vogliamo queste variabili di lavoro lasciarle al programma principale senza nessun rischio che le funzioni le vedano, o le modifichino? Sì che vogliamo. E come facciamo a fare in modo che il programma principale, tra virgolette, si protegga le sue variabili così come una funzione si protegge le sue? E facciamo in modo che anche il programma principale sia una funzione. Il programma principale lo posso mettere in una funzione, quindi la parte di programma posso chiamarlo, che ne so, main, e tutta la parte di programma che fa, che gestisce il gioco, diventa il corpo di questa funzione main. L'ho chiamata main per ricordarmi che secondo me è la funzione principale. La parola main, a differenza del linguaggio C o C++, non ha nessun significato speciale in Python, ok? Un programma in C inizia l'esecuzione da una funzione che si chiama main e la che devo sempre definire. In Python no, inizia l'esecuzione dalla prima riga. Tranquillo. Quindi la posso chiamare come voglio, posso chiamare funzione principale, posso chiamare programma, posso chiamare partita, come volete. Cosa ho modificato? Semplicemente ho fatto in modo che queste variabili qui fossero variabili locali della funzione main e non più variabili globali del programma. E quindi vedete che il warning da briscolo è scomparso. Questa è chiaramente ed evidentemente, senza dubbio di confusione, una variabile locale della funzione scegli-seme. Queste due le ho lasciate fuori, perché mi va bene che stiano definendo le variabili che siano visibili a tutti. Magari per rendere più esplicito il fatto che queste devono essere visibili a tutti, magari le mettiamo in testa all'inizio. definizione di costanti visibili globalmente. e poi quindi il programma si è ridotto, si è collassato a una definizione di quattro funzioni. che posso ragionare, sviluppare, migliorare indipendentemente l'una dall'altra. Quindi se io adesso eseguo questo programma, non fa niente, attenzione. Perché non fa niente? Ma perché io la funzione main l'ho definita, ma non l'ho mai chiamata. Cioè la funzione main per me contiene le istruzioni principali, ma devo eseguire queste funzioni. Adesso il programma esegue una import, esegue due assegnazioni, esegue quattro definizioni di funzione, e basta, poi finisce. Dice, ah, è stato facile. Non ho fatto nulla di vero. Allora, come unica istruzione che rimane nel programma principale, al di là degli import delle costanti, chiamiamo il programma main. A questo punto lui fa, definisce questa, finisce questa, finisce questa, finisce questa, esegui il main. Il programma principale si è ridotto a un'istruzione sola, fai partire il main. Il main fa ciò che faceva il programma prima, non è che le istruzioni siano cambiate. Ma lo fa in un contesto protetto, in cui le variabili che definisce sono sue e solo sue, non possono essere né viste né modificate dalle funzioni, e quindi quando il programma principale vuole passare un valore a una funzione, lo passa esplicitamente. Ovviamente adesso funziona come prima. Due di quadri, qui si sbaglia a scrivere, allora c'è sempre la funzione che corregge, quindi il 6 di pic, mi dice chi ha vinto il giocatore 1 e così via. Quindi questa è una struttura che mi sembra molto ordinata, è la struttura verso cui cerco sempre di tendere quando sviluppo un programmino di questo genere. abbiamo una serie di funzioni, un programma principale che usa queste funzioni per fare, diciamo così, svolgere il lavoro che devo fare, valendoci delle funzioni, che metto a sua volta dentro una funzione e poi un'unica istruzione che richiama l'avvio di questo codice. In questo caso abbiamo una funzione che chiama un'altra funzione. Quindi abbiamo il programma principale main, il programma principale appunto, che chiama la funzione main, la quale al suo interno chiama una seconda funzione. Vabbè, una funzione che chiama un'altra, che poi se non può chiamare un'altra, c'è piacere, no? Ormai non ci deve stupire più nulla. Adesso faccio un altro giochino. Prendi tutto il main e lo sposto all'inizio, qua. Come prima, funzione. Allora, vabbè, tu dici, chi se frega. Questo main chiama una funzione, scegli seme briscola. Ma la funzione scegli seme briscola alla riga 33 non è ancora definita. Perché verrà definita alla riga 5, giù, 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 è l'ultima. Alla riga 99. Allora, funziona? Sì, funziona. Vedi che parte. Perché funziona? Ma funziona perché ripercorriamo ciò che fa Python. Parte dalla prima riga, definisce semi, definisce valore, definisce la funzione main, definisce la funzione leggi, definisce la funzione determina, definisce la funzione scegli e poi esegue l'istruzione main. Quindi esegue tutte queste righe, poi esegue la riga 105, esegui la riga 105, fa sì che entri dentro il main e cominci ad eseguire la riga 33. Alla riga 33 dice, oh, c'è una chiamata a una funzione, questa funzione c'è, è stata definita? Sì. È stata definita perché la funzione è stata definita alla riga 99, la quale del testo compare dopo, ma nell'ordine di esecuzione compare prima rispetto all'esecuzione della riga 33. Questo perché queste funzioni sono richiamate tutte dal main, va bene, ma solo quando eseguo la riga 104. Se io provassi a prendere la chiamata, la funzione main, la mettessi da un'altra parte, tipo qui, definisco la main, poi chiamo il main e poi colo le funzioni di ausilio e questa qua non funzionerebbe perché mi direbbe scegli seme briscola non è definita, all'interno della funzione main, perché in questo caso ho definito main e poi voglio eseguire subito main, quindi viene eseguito il corpo della funzione main prima di aver eseguito queste def successive. Riassumendo, se scelgo di impostare il programma come una serie di funzioni richiamate da una funzione principale, l'ordine con cui sono presenti le funzioni è arbitrario. Posso mettere una funzione prima, l'altra dopo, eccetera, eccetera. Io tendo a mettere per prime quelle più importanti e in fondo quelle meno importanti. A patto che l'avvio vero del programma, quindi la chiamata della funzione principale, deve avvenire dopo aver definito tutte le funzioni. Allora, se la metto come ultima, le funzioni possono essere scritte nell'ordine che mi piace e possono chiamarsi reciprocamente l'un l'altra nell'ordine che preferiscono. Pertanto è tutto definito, quando arrivo alla chiamata main, lì alla riga 106, tutto è già definito, tutte le funzioni sono già definite. Nessuna è mai stata eseguita, nessuna riga di nessuna funzione è stata eseguita, ma tutte sono già pronte e definite, quindi possono essere chiamate. E quindi non è male avere un programma che adesso, se lo espando tutto, nelle prime righe del programma vedo che cosa fa. E se il nome che ho scelto per le funzioni sono nomi parlanti, che dicono qualcosa, io semplicemente leggendo il codice, leggendo il nome delle funzioni, capisco abbastanza cosa sta facendo il programma. Poi se voglio sapere come fare a determinare del vincitore, entro poi dentro la funzione e me la vado a leggere. Sapendo che a questo punto la funzione avrà accesso alle sue variabili, ai suoi parametri, alle costanti che ho definito globalmente e basta. E non avrà mai accesso, neanche per sbaglio, a delle variabili definite all'interno di altre funzioni o all'interno del programma principale, perché ormai il programma principale l'ho messo anche adesso dentro una funzione. richiede un po' più di organizzazione e molto spesso capita come abbiamo fatto adesso, prima magari scrivo il codice, perché magari non sono sicuro, prima devo farlo funzionare e poi dopo lo riorganizzo meglio. Non è detto che al primo colpo riesca a trovare qual è l'organizzazione migliore. Quindi le funzioni in realtà non aggiungono nulla, non cambiano la complessità del linguaggio, cambiano la facilità di organizzare il codice stesso. Tra l'altro, vi insegno un altro trucco, immaginiamo di... Voler decidere... No, mi serve una certa funzione, ok? Che so, per calcolare il punteggio totale. Inventiamo. Allora, io posso definire una funzione, calcolo il punteggio e la voglio usare nel programma, ma non la so ancora implementare o non sono ancora arrivato a implementarla, devo ancora farla. Allora, esiste un'istruzione strana del linguaggio Python che si chiama PASS. L'istruzione PASS è un'istruzione che non fa niente, però è come un'istruzione che esiste. Quindi, se io questa funzione non so ancora implementarla e non ci scrivo niente, mi dà un errore di sintassi. Vedete che mi segna un rosso qua perché dice, attenzione, c'è due punti, io mi aspetto un corpo di questa funzione. Non è che puoi dirmi, non c'è nessun corpo e vai avanti sulla riga successiva. Devo metterci qualcosa. Allora, per metterci un A uguale 0 a caso, per dire, non so cosa metterci, ma la sintassi mi richiede che ci sia qualcosa, metto un'istruzione inutile che si chiama PASS. Questa funzione si può chiamare, eseguirà quella istruzione che non fa niente e poi continua. Chiaro che non ritorna nessun valore, non fa nessun calcolo, eccetera. Quindi, molto spesso, si comincia a impostare delle funzioni, decidiamo i nomi delle funzioni, decidiamo i parametri delle funzioni. Poi, cosa fanno le funzioni, ci pensiamo dopo. Però, per avere un programma che sintaticamente sia corretto, quindi posso fare dei run di prova, questo è un trucco che si usa abbastanza spesso. In questo caso, si dice che questa funzione che ho creato è un cosiddetto stub. c'è, non so come si usa in italiano, un segnaposto, una cosa che prende il posto di qualche cosa che ci sarà poi dopo. Questo, appunto, quando facciamo lo sviluppo incrementale. Ecco, abbiamo parlato di punteggi, mi piacerebbe provare a far evolvere un pochino la funzione che determina il vincitore, perché finora abbiamo detto ok, io ti dico chi ha vinto una singola mano. Però, se volessi far evolvere il programma e fare in modo che si possano giocare più mani, il programma principale dovrebbe tenere conto di quante mani ha vinto un giocatore e quante mani ha vinto un altro giocatore. Non abbiamo ancora le carte vere, no? Ci dovremmo riprendere in mano almeno una settimana prossima. Però potremmo pensare che nel programma principale, anziché giocare una mano sola, decidiamo di giocare dieci mani, tre mani, diciamo tre perché dovendolo provare poi ci annoiamo. Però possiamo definire un'altra costante lassù, il numero di mani da giocare, che potrebbe essere tre. E non solo una. Allora, come faccio a fare in modo che questo programma mi permetta di giocare tre mani? Semplicemente nel main ci faccio un for che ripete tre volte. for mano in range numero di mani. Ops. Questa prendeva sopra. Occhio. La determinazione della briscola viene fatta una volta sola per tutte. e poi ad ogni mano gioca uno, gioca l'altro, vedo chi ha vinto. Gioca uno, gioca l'altro, vedo chi ha vinto. E poi magari sommo i punteggi. Conto quante volte ha vinto uno, quante volte ha vinto l'altro. No? altrimenti avrò altre due variabili che posso chiamare vittoria di uno e vittoria di due che vado a incrementare. Quando vince uno incremento la variabile vittoria di uno e viceversa per l'altro. Quindi if vincitore è uno allora incrementa vittoria uno. uguale vittoria uno più uno. Altrimenti vittoria due va incrementato. Così ti faccio giocare la mano, determino chi è il vincitore e se ha vinto il due incrementiamo di uno il conteggio di quante volte ha vinto. Ovviamente queste due variabili sono due contatori condizionali condizionati dal fatto che uno abbia vinto che vengono aggiornati dentro un ciclo for e quindi vanno inizializzati subito prima. Il valore iniziale del numero di vittorie di uno e di due è zero. E quindi alla fine del programma principale posso stampare che il punteggio finale è 3 a 1, 2 a 1 3 a 0 vittoria uno a vittoria due. Occhio a questa print non è dentro il while dentro il for scusatemi ma è fuori dal for quindi questa stampa la faccio una sola volta dopo che ho giocato tutte le 3, 5, 10 mani che avevo deciso di giocare. Ma sono ovviamente sempre dentro il main. Quindi vediamo un attimo. La briscola per questa mano è picche. Il primo giocatore gioca un 2 di picche e il secondo un 3 di fiori ha vinto il giocatore 1. Poi seconda mano magari dovrei scrivere seconda mano terza mano aggiungo una print il primo giocatore gioca un 4 di quadri e il secondo giocatore gioca un jack di sempre quadri in questo caso vince il 2. La terza mano un 2 di fiori e un 3 di quadri vince 1 punteggio finale 2 a 1. quindi mi è facile far crescere questo programma perché in questo momento sto solo lavorando dentro il main tutte le altre funzioni le sto riusando così come erano. quindi abbiamo detto che converrebbe dire mano di gioco numero mano più 1 quindi stampa a mano il gioco numero 1 numero 2 numero 3 fino al numero mani meno 1 più 1 quindi il numero mani. Ok? Quindi definisco altre variabili ma sono le variabili private del main se anche una funzione avesse usato dentro una variabile che si chiamava vincitore 1 non me ne può fregare di meno non ci sono conflitti non ci sono rischi e io riesco a ragionare su una funzione che mi sta tutta su uno schermo riesco a vedere tutto il codice insieme riesco a ragionarci sopra non ho un programma a lungo il cento righe che devo andare avanti indietro per ricordarmi dove ho definito la variabile dove l'ho inizializzata quando la incremento alla fine del ciclo vedo anche dove l'ho inizializzata all'inizio del ciclo quindi posso controllare che tutto sia a posto quindi andiamo a piccoli pacchetti piccoli perché sono piccoli i bocconi che noi riusciamo a digerire ragionandoci ecco fatemi ancora provare a fare un passo ulteriore questo è un punteggio finto quello che ho dato qua perché nel gioco della briscola non conta chi vince chi prende più carte chi vince più mani ma a seconda di che cosa hai preso in quella mano hai un certo punteggio se tu prendi un 2 quello ti dà 0 punti se ti prendi un 3 ti dà 10 punti prendi un asse ti dà un asso ti dà 11 punti quindi sì va bene sapere chi ha vinto contare quante mani ho vinto io quante mani ho vinto tu ma se tu hai vinto tante mani ma hai sempre preso degli scartini alla fine non hai punti ok allora come possiamo fare a tenere conto dei punti effettivi allora quali sono i punti effettivi i punti effettivi sono la somma dei valori delle carte sul tavolo nel momento in cui uno di due ha vinto quindi ci sono due carte sul tavolo una ha un valore l'altra ha un altro valore indipendentemente dal brisco dal seme eccetera la somma dei punti sulle due carte perché poi le prendo le metto nel mio mazzo di presa e alla fine della partita conterò i punti allora può essere facile avere una funzione che mi calcola il punteggio delle carte la possiamo definire dove vogliamo def punti carte punti carta in cui ti do il nome di una carta giocata la chiamo carta anziché chiamarla giocata è uguale tanto il nome di un parametro locale c'è qualcosa che riceve in ingresso una carta e mi dice questa carta vale zero punti e questa carta vale sette punti ovviamente diamo per scontato che le carte siano giuste perché la nostra funzione di input va solo mi risulta solamente carte giuste e dipende solamente dal valore della carta che è il primo carattere il valore nominale un 2 un 3 un jack e allora vabbè facciamolo facile if valore se la carta era un jack allora i punti sono due altrimenti valore uguale se fosse ecco vedi che qua già mi mi segna un errore che mi fa subito capire che avevo sbagliato scrivere la variabile sopra lavorando dentro una funzione è più facile capire se sto usando le variabili giuste o se sbaglio scrivere se valore uguale donna allora ritorno a 3 punti elif valore uguale re return 4 2 3 4 poi c'è il 10 la carta 3 vale 10 punti e poi ho l'asso return 11 else niente altrimenti hai una carta che vale 0 questo è un modo basero con una serie di if avrei potuto farlo in modo più furbo andando a vedere l'index il find forse sì forse no non lo so la scrivo dovrebbe funzionare poi ci sono modi più semplici di farla magari la faremo qui ho messo un uguale singolo anziché doppio ok questa funzione cosa fa? data una carta determina il suo valore numerico in punti gioco carta stringa di due caratteri che contiene una carta giocata il valore di tale carta tra 0 e 11 quindi magari vinci una mano ma in quella mano ci sono due carte che valgono entrambe 0 quindi ti sei portato a toccare 0 punti allora avendo questa funzione sperando che funzioni correttamente possiamo andare a modificare il programma main tenendo conto non solo del numero di vittorie ma dei punti cioè quando vince il vincitore 1 prendono uno dei punti un punti 1 uguale punti 1 più la somma dei punti delle due carte punti carta di giocata 1 più punti carta di giocata 2 e la stessa cosa succede sotto se invece vince 2 chiaramente incrementerò un'altra variabile che chiamo punti 2 della stessa quantità punti 1 e punti 2 non facciamoci cogliere impreparati li inizializziamo a 0 la su in alto e quindi il vero punteggio finale non è vittorie 1 vittorie 2 ma è punti 1 e punti 2 in realtà vittorie 1 e vittorie 2 non ci servono possiamo anche cancellarli se vogliamo quindi cosa ho fatto ho riconosciuto che mi serviva una funzionalità in più e ho fatto due cose mi sono costruito una funzioncina che mi desse il pezzo che mi serviva e sono andato a ritoccare il main per andare a chiamare la funzione dove mi serve anziché andare a complicare direttamente il main immaginate quel main lì avrei dovuto mettere quella if con 6 alternative 4 volte 1, 2, 3, 4 ogni volta che chiamo la funzione sarebbe diventato uno sbrodolamento unico oltre al fatto che nel copia e incolla avrei sicuramente sbagliato qualcosa adesso non è detto che non abbia sbagliato vediamo questo è fiori quindi diciamo che lui parte subito grosso con 3 di fiori ma gliela mangio l'altro con l'asse di fiori adesso facciamo una partita vuota in cui abbiamo due di quadri con un 3 di picche e alla fine diciamo che abbiamo un jack di picche e un 4 di fiori che essendo briscola vince punteggio finale 10 a 23 vediamo giocatore 1 quando ha vinto ha vinto qua prendendosi un 2 di quadri e un 3 di picche quindi questo gli ha dato i 10 punti il 3 di picche il giocatore 2 invece ha vinto qua dove c'era un 3 e un asso quindi 10 più 11 fa 21 e poi ha vinto qua dove aveva un jack e un 4 quindi il jack vale 2 punti 21 più 2 fa 23 ok domande dubbi chiaramente con questa uno può anche lì pensare passaggi successivi che ne so giocare in 4 giocatori non è molto diverso fai giocare l'1 2 3 4 poi alla fine poiché nella partita 4 si gioca a coppie quando segni i punteggi c'è un punteggio per la coppia 1 3 e un altro punteggio per la coppia 2 4 ma significa alla fine riusare in modo leggermente diverso tutte le funzioni che già abbiamo quindi diventa molto facile anche riutilizzarle quindi quello che ci ricordiamo è questa è la mia preferenza cerchiamo di strutturare i programmi con un insieme di funzioni rende facile è chiaro che ci vuole un sforzo in più perché bisogna esplicitare esattamente quali sono i parametri e quali sono i valori di ritorno però è un sforzo che dobbiamo fare comunque anche se non usassimo le funzioni dovremmo avere comunque ben chiaro chi calcola questo valore e chi lo usa perché altrimenti stiamo creando un programma che non capiamo noi stessi mi richiede di farlo esplicitamente e di farlo prima questo ragionamento quindi è un costo che però mi torna mi torna in chiarezza in flessibilità in possibilità appunto di andare a migliorare una parte del programma senza avendo la certezza di non rovinare le altre parti del programma di non creare problemi di usare variabili che non dovevo eccetera eccetera ok serie di funzioni e al di fuori delle funzioni io ciò che ci vedo sono queste due cose eventualmente ci sono delle costanti che tutti devono usare allora definiamo l'inizio degli import che servono a tutti e limitiamo l'inizio e poi alla fine di tutto c'è un'unica istruzione non dimenticatevela che è quella che fa partire la giostra che è l'unica vera istruzione eseguibile di questo programma dimmi questo qua la carta è una stringa di due caratteri no? 3k 3dp a me serve solamente il primo il seme non mi interessa quindi per non dover scrivere carta di 0 uguale j o carta di 0 uguale q eccetera mi sono fatto una variabile locale in cui ho memorizzato solamente il dato che mi serve per risparmiare parenti di quadre da scrivere ok qui l'unico warning che è rimasto nel nostro programma vedete che sono tutte sottolineate dice guarda che io per estetica tra una funzione e l'altra vorrei vedere due righe vuote anziché una sola quindi accontentiamola facilmente mentre invece qua all'interno della funzione due righe non ci stanno ma queste sono solamente più per rendere contento diciamo così il controllo stilistico che ci fa paicciarne sul programma che abbiamo scritto ecco redendo e scarsando abbiamo un programma di 150 righe ma noi non abbiamo mai ragionato su 150 righe abbiamo sempre solo ragionato su 10-15 righe per volta ok va bene cosa ci manca qua ancora beh sicuramente ci manca la gestione del mazzo cioè le carte non è che decido io quali quali dare posso solo altrimenti uno mette sempre l'astro di briscola vince sempre invece no se ce l'hai lo puoi giocare una volta sola quindi quali carte ci sono quali devono essere date quali hai tu in mano tra cui puoi scegliere in briscola si gioca con tre carte per volta e quali sono già state scartate no quali sono già state usate questo non lo sappiamo fare perché ci richiederebbe di gestire non una variabile una giocata ma un elenco un elenco di carte un mazzo di carte noi sappiamo cosa è una carta una stringhetta di due lettere cos'è un mazzo di carte eh sono 40 stringhette di due lettere ma 40 non è che mi definisco 40 variabili a mano dovrò definire una variabile che a sua volta contenga 40 altri variabili o meglio ancora 40 valori e poi da questa variabile posso andare a scegliere uno di questi 40 valori cancellarlo aggiungelo aggiornarlo eccetera quindi se finora abbiamo lavorato solamente con valori elementari numeri stringhe booleani che contenevano un valore l'eccezione un pochino era la stringa che a sua volta conteneva tanti caratteri ma poi mi fermavo lì sempre valori singoli dobbiamo imparare dei nuovi tipi di dati che siano invece dei contenitori di valori il contenitore più semplice è un contenitore a elenco o a lista che impariamo a vedere tra un quarto d'ora dopo l'intervallo e quindi vi lascio respirare con un po' di anticipo rispetto al solito fino all'1 e 5 vediamo le liste grazie grazie grazie